Festa dell'unità nazionale e delle forze armate per la città di Andria con le massime cariche politiche, civili e militari riunite all'ombra del monumento ai caduti situato proprio nel parco 4 novembre, luogo dedicato alla memoria di tutti gli italiani che nella grande guerra hanno perso la vita per la patria, tra loro anche centinaia di andriesi, circa 800 quelli caduti nel primo conflitto mondiale. Dopo un breve corteo è stata celebrata la Santa Messa presieduta da non Domenico Basile, vicario generale della diocesi di Andria, ma prima la consueta deposizione di una corona da loro. Il sindaco Giovanna Bruno quest'anno ha voluto coinvolgere alcuni studenti degli istituti superiori della città. La memoria di dicorrenze come questa ha spiegato passa dai più giovani. Bisogna ripartire dai giovani, giovani contro i quali spesso si punta il dito ma dei quali troppo poco ci si preoccupa per accompagnarli nel loro processo di crescita e di miglioramento. È un tempo in cui gli ideali si fa fatica a trovarli e quindi diventa difficile anche legarli a qualcosa, diversamente da quanto accaduto per i loro coetanei tanti e tanti anni fa. Quindi una valenza anche simbolica questa commemorazione di oggi, in un luogo che per i giovani è anche importante perché spesso è il luogo del ritrovo, del bivacco. Invece io vorrei che loro si rendessero conto che su quella pietra ci sono scolpiti 800 nomi, spesso di coetanei, di giovani, di giovanissimi, che hanno dovuto versare il sangue per l'ideale altissimo della patria. La città di Andrea ha anche conferito la cittadinanza onoraria al milite gnoto, un omaggio a tutti coloro caduti in guerra senza lasciare una traccia di sé, un gesto simbolico, come ha spiegato il sindaco Bruno. A volte anche senza un volto, anche senza un nome ci si può identificare e noi ci identifichiamo non solo in chi ha combattuto per la patria, ma anche chi anche ai nostri giorni si impegna per difenderla, quella patria, per difendere i propri e gli altri diritti. Grazie.